Il Forte Mero è l'ultimo in ordine di tempo del sistema difensivo dell'Alta Val di Sole. Fu costruito a quota 1859 metri con il compito di sbarrare l'accesso alla valle lungo la vecchia strada del Tonale che proveniva dall'ospizio San Bartolomeo. È un'opera di mezzo, uno Schwitzenwerk e doveva coprire l'intervallo tra il Forte Zaccarana e il Forte Estrino e battere le zone morte antistanti il Forte Medesimo.